La Turner Pictures vi invita a seguire Macaulay Culkin nel suo incredibile viaggio nel mondo incantato di Fate Master, un mondo di inesauribile fantasia Come ti permette di buttarti per aria al mio collo? Dei personaggi indimenticabili Io non ho paura di nessuna! Ho tanta paura Di che cosa? Di... Fisto! Aiuto! Fatemi sfida! Richard si trova immerso nel mondo delle più belle storie mai narrate Alice nel paese delle meraviglie Tagliatemi la festa! 20.000 leghe sotto i mari È un calamario gigante! Moviti! Abbandonare la nave! Ma prima di riuscire a tornare a casa Figliolo, ti ho portato qui perché tu possa affrontare le tue paure Ha! Vieni avanti, secolaggio! Richard si trasforma in eroi Sì! Libri che si trasformano in leggiadre fantasie Naturalmente! In minacciosi pirati Ha 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 ha! In diabolici dottori Dottor Jekylls Mr. Hart! Ha! In orribili sgorbi Siamo tutti impavidi avventurieri! Christopher Lloyd nella parte di Page Master Con i libri puoi vincere le tue paure per sempre Vivrete le avventure Riderete delle trovate E scoprirete le magie Di Page Master Siamo tutti i libri puoi vincere le tue paure per sempre Siamo tutti i libri puoi vincere le tue paure per sempre